Il decano della politica pescarese, attuale consigliere comunale a Sant'Eufemia Maiella, Licio Di Biase, scrive il suo nome nell'albo d'oro della rassegna gastronomica politici ai Fornelli, al ristorante Le Terrazze, al Roof Garden dell'Hotel Esplanade di Pescara, con il piatto Pasta al Tonno. È stato premiato con il Trofeo Rustichella d'Abruzzo, dall'Accademico della Cucina Mimmo D'Alessio e dal Maestro di Cucina Santino Strizzi, al termine di una simpatica iniziativa che ha visto sul podio il consigliere comunale di Montesilvano Adriano Tocco con Sagnette, con Tondino del Tavo, Cozze dell'Adriatico e Crostino al Rosmarino e la consigliera regionale pentastellata Sara Marcozzi, con il piatto Spaghetti Forti e Gentili, per un elaborato a base di prodotti tipici come salsiccia, zafferano di navelli e pecorino di farindola. Il premio della giuria, intitolato alla memoria di Angelo Chiavaroli, è andato all'assessore di Cepagatti Camillo Sborgia, con sagne e fagioli con le cotiche, mentre il premio della critica, Pasquale Pacilio, ha visto sorridere l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, con cavatelli alla pescatrice. Meritavano maggiore fortuna, a dire il vero, il pollo al limone di Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese, responsabili amministratori al comune di Pescara, e le mezze maniche su crema di broccoli, scampi e pinoli di un altro volto noto della politica pescarese come Berardino Fiorilli. I piatti sono stati accompagnati, a dovere, dagli ottimi vini firmati Zaccagnini di Bolognano e Sincarpa di Torrevecchia Teatina. In giuria sono stati presenti, tra gli altri, il sindaco di Villa Santa Maria ed ex chef della Camera dei Deputati, Pino Finamore, l'attrice e regista Franca Minucci, il campione internazionale di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, l'emerito ricercatore dell'Enea Achille Renzetti e la campionessa italiana della cucina Maria Angelucci. L'iniziativa è stata presentata da Paolo Minucci con gli intermezzi artistici del simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia. Nella mia carriera mi mancava proprio un simile riconoscimento, esclamato visibilmente soddisfatto al termine Licio di Biase. Mi sono divertito in un clima di grande cordialità. La cucina unisce e dedico così il primo successo del genere a mia moglie che mi ha insegnato i segreti di questa gustosa ricetta. Con il piatto pasta al tonno Licio di Biase, decano della politica abruzzese, vince l'edizione 2021 di Politici ai Fornelli. Allora descriviamo e raccontiamo l'emozione della prima volta. Sicuramente per aver fatto per tanti anni l'amministratore e essermi dedicato per tantissimi decenni alla politica, vincere un premio di questo genere per me è un fatto forte, innovativo. Per cui forse il consiglio di fare altro, quindi di dedicarmi a questa cosa. Benissimo, sono felicissimo perché è la seconda volta che concorrevo a questa competizione, l'ho stesso piatto, l'ho perfezionato, ci ho lavorato molto e ancora da migliorare. Però mi fa molto piacere che la giuria, una giuria di competenze, veramente ti devo dare atto, una giuria eccezionale, ha scelto questo mio piatto come piatto vincitore. Ma come è fatto questo piatto? Pasta al tonno? Ma diciamo che è un piatto di mia moglie su cui ho lavorato molto perché il piatto, pasta al tonno è banale perché ci sono dentro le alici, ci sono dentro le olive nere, il pachino e poi alla fine una spruzzata di capperi, capperi sotto sale da pulire bene. Cioè è un piatto ricco, molto ricco che porta i sapori del nostro territorio, anche se magari non ci sono elementi ricadenti nel nostro territorio, però sono i sapori del nostro territorio. Quindi mi fa piacere che la giuria abbia scelto questo piatto come piatto vincitore. Questo primo posto a chi lo dedica, Licio Di Biase? Necessariamente a mia moglie che mi ha insegnato a fare questo piatto. Non è la prima volta di politici ai fornelli, singolare originale gara gastronomica riservata agli amministratori regionali. In giuria l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio, ecco, che manifestazione si tratta? Ma mi sembra una cosa molto interessante quella che tu hai proposto in questa giornata. I politici che si cimentano in un gioco che è quello di cucinare. D'altra parte fare politica nel senso più bello della parola è un po' donarsi agli altri, un po' come fare quando si fa in cucina. In cucina si preparano dei piatti per fare il piacere dei propri familiari, dei propri ospiti. Io credo che lo spirito che dovrebbe animare tutti i politici è quello di fare qualcosa per la propria comunità. La tangente per tutti dovrebbe essere il risponso da parte degli elettori di un gradimento di quello che si fa. Comunque anche in passato questi politici hanno espresso piatti di grande qualità, ad iniziare dai piatti proposti dalla senatrice Stefania Pezzopane, per passare a quelli dell'ex sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Insomma, il livello è abbastanza elevato? Beh sì, c'è molta attenzione nel presentare dei cibi. D'altra parte chi partecipa a un concorso sicuramente sa il fatto suo, per cui oltre a mettersi in gioco credo che abbia un minimo di competenze. Poi i politici sono anche abituati non solo a cucinare ma anche a mangiare bene, per cui voglio dire nel vedere quello che fanno gli altri, nel voler emulare quello che fanno gli altri, molte volte riescono e anche meglio di quello che fanno normalmente nella banalità alcuni ristoratori. Comunque sia è stato davvero molto interessante vederli tutti insieme, esponenti di centrodestra, esponenti di centrosinistra, Movimento 5 Stelle, insomma la cucina unisce davvero? La cucina unisce ed è il bene comune che tra l'altro dovrebbe essere questo, a parte al di là del momento elettorale, io credo che tutta la politica dovrebbe concentrarsi insieme per cercare di dare delle risposte efficaci ed efficienti ai cittadini, non spesso questo accade, molte volte si tira la corda per portare un po' di farina al proprio mulino, ma in realtà il bene comune credo che dovrebbe stare al di sopra di tutti. Insomma Adalessio lei oggi si è divertito? Abbastanza divertito e devo dire che ho mangiato anche bene, questi politici sono davvero bravi, spero che possano trasmettere alle loro amministrazioni questa volontà di emergere e di fare bene. La pasta al tonno preparata da Licio Di Biase, decano della politica abruzzese, si impone a politici ai fornelli, al ristorante Le Terrazze dell'hotel Esplanade di Pescara. Siamo in una location davvero invidiabile in compagnia di Pino Finamore, altro grande della cucina abruzzese, oggi presente in giuria, sia come chef che come amministratore dal momento che lei ricopre la carica di sindaco in quella di Villa Santa Maria. Com'è andata? È andata benissimo, il vincitore giustamente faceva notare che dopo tanti anni di politica insomma come dire si è migliorato perché la sua esperienza è arrivata a tal punto da poter elaborare anche piatti di questo tipo, mi sembra giusto e giustificato. È stata una bellissima manifestazione dove tutti si sono messi a confronto ed è una bella modalità per la politica stessa. Poi noi che siamo, io che sono cuoco oltre ad essere amministratore, penso sempre che in questi momenti c'è la possibilità di fare anche il punto della situazione del nostro Abruzzo, del nostro turismo, dei nostri prodotti e quindi perché no mettere l'accento su alcune modalità che possono essere migliorate sulla ricettività del nostro Abruzzo, che è tutto sostanzialmente. Certo, ecco Pino Finamore, ma cosa ha avuto di più? Il piatto che ha vinto, pasta al tonno rispetto al piatto che è arrivato subito dopo, le sagnette con tondino del tavo e cozze dell'adriatico di Adriano Tocco. Allora i prodotti erano assemblati nel modo giusto, quindi questo è uno dei motivi per cui ha vinto. Se posso fare, se posso dare una piccola precisazione sul piatto dovrei solo dire che i capperi erano dissalati poco, quindi secondo il mio punto di vista sono stati poco in acqua, ma è proprio per fare, insomma come dire, per cercare il pelo nell'uovo. Per mettere un cappello, sì, per cercare il pelo nell'uovo, se no erano assemblati nel modo giusto, a giusta sapidità, elaborati bene e quindi nella sua semplicità un ottimo piatto. Ecco questo è uno dei motivi per cui ha vinto. Oggi quindi lei si è divertito, si è rilassato, ha staccato la spina, come si sol dire? Sì, è molto meglio stare da questa parte che dall'altra sotto questo punto di vista, anche se essendo un gioco bisogna prendere tutto insomma col giusto peso. Però è un bel momento, un momento dove si riesce a colloquiare, come dire, anche confrontarsi non solo sulla cucina, ma anche su quelli che sono gli aspetti politici, visto la presenza insomma di alcuni consiglieri regionali. Quindi è un gran bel momento in una location stupenda, fantastica. veramente strabiliante da questo punto di vista che consiglio a tutti di visitare. L'attuale consigliere comunale di Sant'Eufemia, Licio Di Biase, con il piatto pasta al tonno, decano della politica pescarese, vince l'edizione 2021 di Politici ai Fornelli. In giuria Franca Minucci. Ecco, che piatto ha preparato? È stato un piatto che ci ha molto colpito, un po' perché era forse il primo, quindi eravamo con tutti i sensi molto allertati nell'assaggiarlo. Ma era un piatto nella sua semplicità, nella sua quotidianità, perché è un piatto che possiamo fare tutti a casa, aveva una caratteristica, una fusione di sapori che era perfetta, cioè non c'era un sapore che prevaleva sull'altro. E questo ci ha molto, come dire, insomma, convinti. Aveva, diciamo, questo tonno, e questo, lui ha parlato non solo delle olive, delle olive taggiasche, che aveva unito, insomma, in una fusione ai capperi. Semmai qualcuno ha saputo, ha sentito un pochino di sapidità proprio nei capperi, però questo dipendeva dal piatto, perché, come sempre, insomma, una volta che sono dissalati, non lo sono mai in maniera uniforme. Piatti di buon lignaggio, anche le sagnette all'altondino del Tavo, di Adriano Tocco di Montesilvano, consigliere comunale di Montesilvano, e lo spaghetto forte e gentile della consigliera regionale Sara Marcozzi. Due grandi piatti anche questi. Sì, abbiamo molto apprezzato il piatto della Marcozzi, adesso sappiamo che della Marcozzi non lo sapevamo. Io avevo individuato che era un piatto di una donna, mi era sembrato un piatto femminile, insomma, ma nella forma, così, nei colori. Era fatto molto bene il piatto e si è prestato, diciamo, ad un gusto anche molto forte e nello stesso tempo, come dice giustamente, lei gentile, perché lo zafferano ha questa doppia caratteristica. Un piatto abruzzese, della nostra terra, anche per questo si chiamava e aveva questo titolo, insomma, quindi tutti molto bravi, sono stati molto generosi anche. Io ho detto già prima, a cucinare per gli altri, per mettere agli altri di assaggiare, di introitare un proprio prodotto è un fatto di grande affetto e di grande stima, quindi veramente una grande manifestazione. Complimenti. Prima volta politici ai fornelli per l'onorevole Pietro Smargiassi del Movimento 5 Stelle in gara con Cavatelli alla Pescatrice. Intanto, perché la scelta di questo piatto? Perché è un piatto tipico della mia terra, del luogo da dove provengo. È un piatto vastese, tipico vastese, della cucina marinara e a me piace cucinare soprattutto il pesce. Certo, il lunedì ha limitato molto la possibilità di scegliere, ma è stato un modo per giocare con gli altri colleghi, con gli altri politici, presentando un piatto che richiama la mia città. Come si è trovato tra gli altri esponenti politici regionali? Se la cucina, se è vero come è vero che la cucina unisce tra esponenti di centro-destra, centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, come è andato in cucina? È stato divertente perché comunque ognuno si ricavava il proprio spazio, il proprio fuoco e comunque tutti, anche se facevano finta di niente, erano in forte competizione. Ognuno voleva vincere, ognuno voleva far vedere che era bravo a fare qualcosa, ma fondamentalmente prima ho sentito una battuta che mi è piaciuta molto. I politici sono a servizio dei cittadini, oggi siamo stati a servizio di una giuria, ci siamo fatti giudicare, criticare e per fortuna ho portato a casa un premio della critica, quindi chi più di me è stato criticato? A me questo è piaciuto molto e mi sono divertito tanto. Premio da dedicare a chi? Beh, sicuramente alle mie figlie che aspettavano con ansia sapere come era andato il suo papà. Premiato con il piatto Sagni e Fagioli con le Cotiche, l'assessore al Comune di Cepagatti, Camillo Sborgia, altro decano della politica abruzzese. Ecco, che manifestazione, che giornata ha vissuto? È una giornata bellissima che voglio ricordare e soprattutto voglio dedicare un po' al nostro territorio, a tutte quelle persone che ogni giorno si alzano, che lavorano, che producono ancora i prodotti nel nostro territorio, che entri nella dieta mediterranea perché sapete benissimo che Sagni e Fagioli con le Cotiche rappresenta una giusta minestra che rappresenta il passato e si coniuga col futuro. Oggi è davvero una giornata di festa per la cucina abruzzese perché ad omaggiarla sono stati gli amministratori regionali. Ecco, c'è stato un clima di festa, una giornata da ricordare. Sì, io penso che è importante parlare, stare insieme. Oggi abbiamo dimostrato che persone che occupano posti diversi nei vari consigli comunali, regionali, hanno dimostrato che è possibile stare insieme, dialogare e io penso che questo sia anche un punto importante perché ho visto molti soggetti che hanno partecipato a questo incontro parlare anche di problematiche che riguardano una migliore situazione del nostro Abruzzo. Questo premio a chi lo dedica Assessore Sborgia? Io lo voglio dedicare alla mia famiglia che in questi quasi 40 anni di presenza nel mondo politico mi ha sempre stato vicino e molte volte li ho privati anche della mia presenza nei momenti più importanti. Quindi questo premio va a loro perché ritengo che mi stanno sempre vicini e mi vogliono bene. Meritato riscontro per lo spaghetto forte e gentile della consigliera regionale Pentastellata Sara Marcozzi oggi a Politici ai Fornelli e al ristorante Le Terrazze dell'hotel Esplanade di Pescara. Intanto come si è trovata? Benissimo c'era una bella atmosfera da spogliatoio quasi in cucina qualcuno ha detto giustamente che i politici ai Fornelli si spogliano dei colori di appartenenza questo è vero non si spogliano della competizione del senso di competizione che c'era comunque però insomma è una cosa bella ci siamo divertiti ed è sempre bello cucinare per gli altri in questo caso uno spaghetto forte e gentile perché questa volta a differenza della volta scorsa che avevo fatto una carbonara non proprio a Tinente non proprio a Bruzzese questa volta invece ho voluto creare uno spaghetto forte e gentile quindi la pasta del Cavalier Cocco lo zafferano di Navelli il pecorino di Farindola le salsicce di Guardia Grele insomma quasi tutto l'abruzzo all'interno di questo piatto mi hanno detto troppo sale un pochino cosa che mi ha fatto meritare il terzo posto e non forse un pochino più su io il sale non l'ho messo da nessuna parte era solo come dire il sale della cottura per cui la prossima volta starò attenta alla cottura della pasta ma ci dica una verità che ruolo occupa la cucina nella sua vita perché la seguiamo lei è impegnatissima con l'attività in consiglio regionale vabbè la cucina è fondamentale per me ma penso per tutti quanti noi abruzzesi italiani tutti noi cuciniamo con il lockdown ho avuto la forza e la possibilità una delle poche cose positive che abbiamo avuto il tempo come dire con il lockdown e con questa pandemia di cucinare un po' di più però certamente è un ruolo quello della cucina come dire di protagonista quotidiano nella vita di tutti noi credo c'è un piatto in Abruzzo che meglio di ogni altro rappresenta l'identità del territorio secondo Sara Marcozzi beh ce ne sono tanti ce ne sono tanti io cito quelli che mi piacciono di più che ne so la chitarrina la terramana il parrozzo ce ne sono veramente tanti la pasta la pecorara adoro ce ne sono tanti forse la nostra regione anche se ha tanti piatti tante specialità ma tanti piatti non soltanto tanti prodotti tipici cioè tante composizioni di piatti dovrebbe imparare a pubblicizzarli un po' di più perché come cultura gastronomica come possibilità come tra l'altro anche capacità oggi di esportare i nostri piatti nel mondo sia con i nuovi chef sia con le scuole di cucina di tradizione della nostra regione non siamo secondi a nessuno dobbiamo solo capire che non siamo secondi a nessuno ovviamente ma in una gara come questa cosa fa la differenza una buona tecnica di base l'utilizzo di ingredienti freschi e genuini la fantasia cosa? beh sicuramente l'utilizzo di ingredienti abruzzesi ma non solo abruzzesi comunque di ingredienti di prima qualità ovviamente un pochino di tecnica ci vuole e ci vuole un pizzico di fortuna come in tutto a chi dedica questo riconoscimento? l'ho detto prima ieri ieri l'altro ieri in realtà mia figlia ha compiuto un anno abbiamo festeggiato il suo primo anno per cui direi a lei anche noi ci uniamo agli auguri tante belle cose grazie mille grazie a voi piazzamento d'onore per il piatto Sagnette con Tondino del Tavo Cozze dell'Adriatico e Crostino al Rosmarino preparato da Adriano Tocco consigliere comunale di Montesilvano una bella manifestazione politici ai fornelli come si è trovato? molto bene molto bene una sana competizione devo dire che ho conosciuto dei colleghi ho assaggiato anche dei piatti molto particolari devo dire che è stato bello il clima una bella esperienza sicuramente da ripetere per me non era la prima era la seconda qualche anno fa ho partecipato con un altro piatto sempre con un prodotto tipico abruzzese del mare quella volta e sono arrivato terzo adesso questa volta la seconda magari di buon auspicio perché magari da qualche anno arriverà al primo posto abbinare le sagnette al tondino del tavo alle cozze dell'Adriatico ecco com'è venuta l'idea? ma soprattutto il tondino del tavo che è un prodotto del cosiddetto prodotto sociale diciamo di un cibo che si usava molti anni fa un prodotto autocono del territorio quindi un prodotto che ho avuto la riscoperta di questo prodotto e abbinarlo alla cozza del nostro Adriatico quindi diciamo che due prodotti del posto della nostra per far conoscere il territorio che penso che sia la base per fare una sana un piatto diciamo veramente locale ma in cucina come vi siete trovati tra esponenti di centrodestra centrosinistra Movimento 5 Stelle? ma c'era stato un bel clima anzi a qualcuno abbiamo anche collaborato insieme abbiamo aiutato a fare i piatti abbiamo c'è stata veramente una sana competizione ma soprattutto anche una collaborazione anche dei consigli durante l'elaborazione dei piatti devo dire che avendo un clima molto molto bello da ripetere sicuramente successo per l'edizione 2021 di politici ai fornelli con piatti di grande lignaggio preparati dai vari amministratori che si sono succeduti al tavolo della commissione una manifestazione impreziosita anche dalla partecipazione di aziende viti vinicole di pregio come Zaccagnini di Bolognano e Sincarpa di Torrevecchia Teatina ed altre realtà importanti come il pastificio Rustichella ad Abruzzo di Pianella la Lucia Rossicini di Cassilenti e l'oleificio De Massis di Elice in giuria anche il campione internazionale di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone come è andata? è andata molto bene a parte la location bellissima la compagnia davvero piacevole la giuria molto qualificata anche molto più di me però come dicevo prima è un'esperienza bella perché perché in qualche modo la cucina unisce un po' come fa lo sport perché quando c'è una sana competizione la capacità di mettersi in gioco si vince sempre spariscono le fazioni colori politici anche questo è un altro gran bel messaggio e sono particolarmente contento del vincitore perché si è trattato di un piatto che ha due caratteristiche fondamentali detto da un profano nella materia e cioè la semplicità e l'equilibrio credo che queste siano le caratteristiche che fanno onore anche un politico essere capace di semplificare e di avere un equilibrio nelle proprie decisioni quindi il vincitore secondo me ha delle ottime doti anche da politico è stata una bella manifestazione impreziosita anche dalla presenza del noto barzellettiere Valerio Basilavecchia insomma l'allegria l'ha fatta da massimo comune denominatore assolutamente sì io mi sono permesso prima di fare pubblicamente un elogio a Valerio Basilavecchia che è un carissimo amico che condivide con me un'esperienza comune nel senso che Valerio è una persona che combatte tanto anche se non dice fa combatte ogni giorno contro patologie importanti come faccio io ed è capace di regalare sorrisi tutti i giorni io non c'è giorno che non riceva due tre messaggi con barzellette che lui pubblica a beneficio di tutte le persone che vogliono bene una persona che combatte così con così tanta tenacia e abbia lo spirito per regalare sorrisi è un esempio per tutti primo fra tutti per me che combatto come lui patologie particolarmente degenerative e che credo sia un ottimo stimolo e un ottimo volano per portare energia positività e buon umore perché il fatto di avere una una criticità nella propria vita non è una scusa per richiedere attenzione ma può essere un'ottima ragione per dare energia agli altri hai per caso la passione per i fornelli iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com ti divertirai cucinando buon giorno ci suc sore 對啊